Ciao, come ti chiami? Da Issa. Da dove vieni? San Paolo Dezzo. Bene, oggi il tandem è una decisione o un regalo? Regalo. Regalo di chi? Mamma e papà. Aia! Per il compleanno? Sì. Bene, bene. Ti hanno spiegato quello che facciamo? Più o meno. Più o meno, ti ricordi? Sicura? Spero di sì. Tanto stai con lui, lui in genere non si ricorda mai niente, quindi cerca di ricordargli quello che deve fare, ok? Ecco, gliel'ho detto io quello che deve fare. Quindi siete in due che non vi ricordate. Benissimo. Allora che te devo dire? Divertiti, buon lancio, benvenuto al campo di Reggio Emilia e buon divertimento. Ciao. Grazie. Ciao pilota. Ciao pilota. Va bene? Va bene. Ga bene! ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.